I casi positivi conclamati sono 13, 12 sono in contumacia domiciliare, uno è ricoverato al reparto di malattie effettive dell'ospedale di Udine pur non versando in condizioni gravi. Questi 13 stanno a 8 a Udine, 2 a Gorizia e 3 a Trieste. Le fonti che abbiamo individuato e sulle quali stiamo ricostruendo i contatti con tutte le persone che sono state coinvolte per capire se ci sono le condizioni per poter fare in tapponi e conseguentemente procedere nei termini che vi ho indicato riguardano il convegno all'Università a Udine, la visita all'ospedale Caffoncello di Treviso e l'ultimo caso per una permanenza ad un convegno a Milano.